Scambio dei ruoli tra Fabio e Benedetta Fabio cucina e Benedetta fa la telecronaca Guardate ragazzi, c'è da divertirsi Allora, vengono i miei amici a vedere la partita stasera e allora cucino io Sei contenta? Ma non mi dico perché cucino Cucino io, faccio gli involtini di mia nonna anzi, gli spiedini di mia nonna Allora, questi sono gli ingredienti carne, formaggino Vuole fare il mio lavoro Adesso vado a fare la telecronaca Benvenuti nella sua cucina Allora, dai, possiamo fare così Gesù, tutti vogliono cucinare a questo mondo E tu fai la telecronaca di io che cucino Faride moltissimo Cosa devo fare, Fabio? La telecronaca Perché cambiamo i ruoli Ma cosa vuol dire? Caressa taglia il salame? Sì Con poca Caressa taglia il salame E accanto al salame Il formaggio E' un'amorso di salame E per finire dentro Potessi fare una cosa Attenzione, sta per tagliarsi Attenzione, sta per tagliarsi Si è salvato Pericolo Ah no, quello lo dice Piccinini però Ciao Sandro Ciao Sandro Fai vedere Passi gli ingoltini nell'olio Ma che bello Poi ne fai No come sei concentrato Non è che stai Non è la fissione dell'atomo Così io faccio Ne faccio brutta figura Capito? Fabio super concentrato E Benedetta se lo guarda Ragazzi Buona serata E buona partita Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.